ciao a tutti oggi voglio farvi vedere come realizzare questa ape con il cappellino le api che pubblicherò sono state pensate per una giostrina per neonati ma volendo potete utilizzarle come porta chiave o semplicemente come pupazzetto se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori iscrivetevi è gratis e aiuterete il mio canale a crescere poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace è molto importante per far arrivare i miei video a più persone per fare l'ape andrò ad utilizzare un uncinetto da 2,5 mm e dei fili in cotone per il corpo vado ad utilizzare un filo nero in cotone e vado ad iniziare dal pungiglione quindi avvolgo il filo intorno al mio dito passo con l'uncinetto sotto al primo aggancio il secondo ruoto prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola questo è il mio anello magico spero di riuscire a farvi vedere bene la lavorazione perché con il filo nero è un po difficile inizio facendo 6 maglie basse quindi entro all'interno dell'anello magico prendo il filo fuori prendo il filo e lo passo all'interno di due asole 1 1 2 3 4 5 6 stringo l'anello magico nel giro 2 vado a fare un giro di maglie basse significa vado a fare 6 maglie basse una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa nel secondo punto faccio una maglia bassa nel terzo punto faccio una maglia bassa nel quarto punto faccio una maglia bassa nel quinto punto faccio una maglia bassa e nel sesto punto faccio una maglia bassa quindi ho fatto un giro di maglie basse stringo bene così da chiudere l'anello magico altrimenti si vedrebbe un buchino nel giro 3 vado a fare una maglia bassa e un aumento quindi entro nel primo punto spero di riuscire a farvelo vedere e faccio una maglia bassa segno l'inizio del giro nel secondo punto vado a fare un aumento quindi due maglie basse nello stesso punto entro faccio una maglia bassa vado a entrare nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa proseguo con una maglia bassa nel terzo punto e un aumento nel quarto punto e così via via per tutti i punti che incontro fino alla fine del giro nel giro 4 vado di nuovo a fare un giro di maglie basse quindi vado a fare una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato e facendo una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato faccio tutto il giro concludo il giro con una maglia bassissima quindi entro nel punto seguente prendo il filo e lo passo all'interno di tutte le asole e se andate a sistemare bene vado a nascondere il filo restante dell'anello magico all'interno del pungiglione dicevo se lo andate a sistemare bene vedrete che eccolo questo è il pungiglione ora proseguo con il corpo quindi quindi nel giro 5 vado a fare 9 aumenti significa che entro dentro ogni punto precedentemente lavorato e faccio due maglie basse una entro nello stesso punto e due segno l'inizio del giro e lo stesso faccio per ogni punto entro nel secondo punto una entro di nuovo nel secondo punto due ripeto due maglie basse in ogni punto per tutto il giro quindi ho realizzato in totale 18 maglie basse nel giro 6 vado a fare due maglie basse e un aumento quindi entro nel primo punto faccio una maglia bassa segno l'inizio del giro nel secondo punto faccio una maglia bassa nel terzo punto faccio un aumento quindi una entro nello stesso punto e due ripeto due maglie basse e un aumento per tutto il giro vedete il pungiglione si vede e sta avvenendo diciamo la parte del culetto dell'ape nel giro 7 vado a fare un giro di maglie basse quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato una maglia bassa una maglia bassa e così fino alla fine del giro terminato il giro 7 vado a fare una maglia bassissima nel punto che segue una catenella di sicurezza taglio perché ora vado a cambiare colore faccio passare l'uncinetto nel punto successivo e ci passo all'interno il filo così ho fatto sparire il gradino della fine e questo è il pungiglione quindi cambio colore e vado a prendere il filo giallo inizio facendo un cappietto quindi avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio entro in un punto qualunque vi consiglio di entrare nel punto opposto altrimenti andrete ad accentuare il gradino prendo il filo e lo faccio passare finalmente con il filo giallo si vedrà qualcosa faccio una catenella entro di nuovo nel primo punto e faccio la prima maglia bassa in questo giro devo andare a fare 3 maglie basse un aumento la prima l'ho fatta 2 3 nel punto che seguono aumento quindi una entro nello stesso punto e due proseguo con 3 maglie basse 1 2 3 e un aumento una entro nello stesso punto 2 per tutto il giro quando arrivate al punto dove avete terminato il giro precedente lavorate semplicemente come se fosse un giro normale una maglia bassa in ogni punto una maglia bassa la terza maglia bassa e poi vado a fare l'aumento 1 2 e vedete che il gradino non si vede se ci fate proprio attenzione bene un pochino si vede però scompare abbastanza nel giro 9 e nel giro 10 vado a fare due giri di maglie basse quindi per due giri vado a fare una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato ricordatevi sempre di segnare l'inizio del giro altrimenti non saprete quando finisce e ci vediamo alla fine dei due giri nel giro 11 vado a fare 4 maglie basse un aumento quindi 1 segno l'inizio del giro 2 3 4 e nel punto che segue un aumento 1 entro nello stesso punto 2 ripeto questa sequenza per tutto il giro e anche con il giallo ho terminato quindi vado a fare una maglia bassissima nel punto successivo una catenella di sicurezza taglio e faccio passare il filo nel punto seguente così andrò ad annullare lo scalino di nuovo vado a cambiare colore vado a prendere il filo nero inizio facendo un cappietto quindi avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio entro sempre nel punto opposto prendo il cappietto e lo faccio passare faccio una catenella entro di nuovo nello stesso punto e faccio la prima maglia bassa ora nel giro 12 e nel giro 13 vado a fare due giri di maglie basse quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato e ci vediamo alla fine dei due giri forse con il giallo si vede meglio quindi vi faccio vedere come lavorare nel punto dove avete concluso il giro precedente praticamente entro in ogni punto e faccio una maglia bassa entro nel punto successivo faccio una maglia bassa e ora trovo lo scalino quindi non vado a entrare qui in questo sotto ma vado a prendere il filo che ho praticamente fatto entrare lo tiro bene e ci vado a fare una maglia bassa scusate lo rifaccio vado a entrare nel filo dicevo questo qui che ho fatto passare nel punto successivo questo qui di chiusura eccolo e ci vado a fare all'interno una maglia bassa lo stringo bene e proseguo nel punto che segue facendo una maglia bassa vedete lo scalino non c'è faccio vedere si vede che c'è qualcosa di diverso che non è uguale alle altre maglie basse però sparisce il gradino e ora iniziamo con le riduzioni quindi inizio facendo 4 maglie basse una riduzione 1 segno l'inizio del giro 2 3 4 per la riduzione entro nel filo esterno del primo punto nel filo esterno del secondo punto spero di riuscire a farvelo vedere al meglio col nero perché è un po' difficile ho 3 asole sull'uncinetto prendo il filo e le chiudo 2 prendo di nuovo il filo e chiudo le altre 2 proseguo con 4 maglie basse 1 2 3 4 e una riduzione filo esterno del primo punto filo esterno del secondo punto chiudo 2 e chiudo 2 proseguo così per tutto il giro nel giro 15 vado a fare un giro di maglie basse quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato una maglia bassa una maglia bassa e ripeto questa sequenza per tutto il giro e con il nero ho finito di nuovo quindi vado a fare una maglia bassissima nel punto che segue una catenella di sicurezza taglio e vado a passare il filo nel punto successivo a quello della chiusura così ho fatto sparire il gradino cambio di nuovo colore vado di nuovo a prendere il giallo inizio facendo un cappietto quindi avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio come prima entro nel punto opposto a quello dove ho terminato il giro prendo il cappietto lo faccio passare faccio una catenella entro di nuovo nel primo punto e faccio la prima maglia bassa e siamo arrivati al giro 16 nel giro 16 vado a fare un giro di maglie basse semplicemente quindi una maglia bassa in ogni punto una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro nel giro 17 vado a fare tre maglie basse una riduzione quindi entro nel primo punto una segno l'inizio del giro nel secondo punto due nel terzo punto tre e vi faccio vedere la riduzione forse con il giallo si vede meglio prendo il filo esterno del primo punto il filo esterno del secondo punto chiudo due asole insieme e chiudo due asole insieme ripeto tre maglie basse e una riduzione per tutto il giro nel giro 18 vado di nuovo a fare un giro di maglie basse quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato e continuo così fino alla fine del giro nel giro 19 vado a fare due maglie basse e una riduzione quindi una segno l'inizio del giro due e una riduzione ripeto due maglie basse uno due e una riduzione per tutto il giro nel giro 20 vado a fare una maglia bassa e una riduzione quindi entro nel primo punto faccio una maglia bassa nei punti successivi vado a fare una riduzione ripeto una maglia bassa e una riduzione per tutto il giro arrivata qui mi fermo e vado ad imbottire il corpo dell'ape quindi il corpo è terminato nel giro 21 vado a fare una maglia bassa e un aumento perché inizio a fare la testa quindi va di nuovo ad allargarsi entro nel primo punto faccio una maglia bassa nel secondo punto vado a fare due maglie basse nello stesso punto cioè un aumento una entro nello stesso punto e due ripeto questa sequenza per tutto il giro proseguo nel giro 22 facendo due maglie basse e un aumento quindi entro nel primo punto uno nel punto che segue due e nel successivo vado a fare un aumento uno entro nello stesso punto due ripeto questa sequenza per tutto il giro nel giro 23 vado a fare tre maglie basse e un aumento quindi uno due e nel punto che segue vado a fare un aumento quindi una entro nello stesso punto e due ripeto questa sequenza per tutto il giro nel giro 24 vado a fare quattro maglie basse e un aumento quindi uno due due tre quattro e nel punto che segue un aumento una maglia bassa entro nello stesso punto e due maglie basse ripeto questa sequenza per tutto il giro per tutto il giro ora dal giro 25 al giro 30 vado a fare sei giri di maglie basse quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato ripetuto per sei giri e ci vediamo alla fine di tutti i giri nel giro 31 vado a fare quattro maglie basse e una riduzione quindi iniziamo di nuovo con le riduzioni 1 segno l'inizio del giro 2 3 4 e una riduzione ripeto questa sequenza per tutto il giro nel giro 32 vado a fare tre maglie basse e una riduzione 1 segno l'inizio del giro 2 3 e nel punto che segue una riduzione ripeto questa sequenza tre maglie basse e una riduzione per tutto il giro nel giro 33 vado a fare due maglie basse e una riduzione 1 segno l'inizio del giro 2 e una riduzione devo ripetere questa sequenza per tutto il giro arrivata qui mi fermo e vado ad imbottire la testa e proseguo la chiusura con una maglia bassa e una riduzione quindi una maglia bassa nel punto che segue una riduzione ripeto questa sequenza per tutto il giro nel giro 35 vado a fare 5 riduzioni quindi vado a fare un giro di riduzioni 1 segno l'inizio del giro io lo segno sempre l'inizio del giro per essere sicura magari una distrazione mi fa sbagliare ho fatto le 5 riduzioni lascio il filo un po' più lungo taglio prendo l'ago e vado a chiudere il buchino che è rimasto faccio un nodino e la parte restante del filo la vado a nascondere all'interno del lavoro e taglio il filo in eccesso il corpo e la testa dell'ape sono pronti per le ali inizio facendo un anello magico quindi avvolgo il filo intorno al mio dito passo con l'uncinetto sotto al primo aggancio il secondo ruoto prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola questo è il mio anello magico nel giro 1 vado a fare 6 maglie basse quindi entro all'interno dell'anello prendo il filo ho due asole sull'uncinetto fuori prendo il filo e chiudo tutte e due le asole insieme 1 2 3 4 5 6 stringo l'anello magico nel giro 2 devo andare a fare una maglia bassa e un aumento quindi entro nel primo punto precedentemente lavorato e faccio una maglia bassa nel secondo punto vado a fare un aumento quindi due maglie basse nello stesso punto entro faccio una maglia bassa entro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa ricordatevi sempre di segnare l'inizio del giro e proseguo con una maglia bassa e un aumento per tutto il giro nel giro 3 devo fare due maglie basse e un aumento quindi entro nel primo punto faccio una maglia bassa nel secondo punto faccio una maglia bassa nel terzo punto devo fare un aumento quindi vado a fare due maglie basse nello stesso punto 1 entro nello stesso punto e 2 ripeto la sequenza per tutto il giro nel giro 4 vado a fare un giro di maglie basse quindi vado a fare una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato quindi una maglia bassa nel punto successivo una maglia bassa nel punto che segue una maglia bassa e proseguo con una maglia bassa fino a arrivare alla fine nel giro 5 devo andare a fare 3 maglie basse un aumento quindi entro nel primo punto una nel secondo punto due nel terzo punto tre nel quarto punto vado a fare un aumento quindi una entro nello stesso punto e due proseguo con tre maglie basse e un aumento una due tre e un aumento uno entro nello stesso punto due per tutto il giro nel giro 6 devo andare a fare i 4 maglie basse un aumento quindi una segno l'inizio del giro 2 3 4 e nel punto che segue un aumento quindi due maglie basse nello stesso punto una entro nello stesso punto due ripeto la sequenza fino alla fine del giro nel giro 7 vado a fare un giro di maglie basse quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato una maglia bassa una maglia bassa e proseguo facendo una maglia bassa in ogni punto per tutto il giro ora nel giro 8 iniziamo con le riduzioni quindi vado a fare 4 maglie basse e una riduzione entro nel primo punto 1 nel secondo punto 2 nel terzo punto 3 nel quarto punto 4 e ora vado a fare una riduzione prendo l'esterno del primo punto l'esterno del secondo punto prendo il filo e lo passo all'interno di due asole prendo di nuovo il filo e lo passo all'interno delle altre due ve lo faccio vedere un'altra volta 1 2 3 4 prendo l'esterno del primo l'esterno del secondo ho 3 asole sull'uncinetto prendo il filo chiudo 2 prendo il filo e chiudo le altre due devo ripetere questa sequenza per tutto il giro ultimo giro il giro 9 vado a fare 3 maglie basse e una riduzione quindi 1 2 3 e una riduzione ripeto questa sequenza per tutto il giro concludo con una maglia bassissima nel punto che segue una catenella di sicurezza lascio il filo un po' più lungo perché mi servirà per andare a cucire le ali e taglio nel punto seguente faccio passare il filo così resterà invisibile la fine vedete resta liscio di ali naturalmente ne devo fare due perché poi le andrò ad attaccare insieme vado ad attaccare le ali prendo il filo le posiziono più o meno al centro del corpo non deve essere precisissimo e vado a cucire la seconda ala la dovete attaccare praticamente unita alla prima così lo spazio tra le due deve essere quasi nullo per fare l'antennina prendo il filo giallo lo avvolgo intorno al mio dito faccio un anello magico quindi infilo l'ago sotto al primo aggancio il secondo ruoto prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola nel giro 1 vado a fare 6 maglie basse quindi entro all'interno dell'anello prendo il filo ho due asole sull'uncinetto fuori prendo il filo e chiudo tutte e due le asole insieme 1 2 3 4 5 6 stringo l'anello magico dal giro 2 al giro 5 vado a fare 4 giri di maglie basse quindi entro in ogni punto precedentemente lavorato e vado a fare una maglia bassa in ogni giro quindi dovrò avere 6 maglie basse terminati 4 giri vado a fare una maglia bassissima nel punto che segue una catenella di sicurezza lascio il filo un pochino lungo perché mi servirà per andare a cucire l'antenna sulla testa e taglio la prima antenna l'ho già attaccata vado ad attaccare la seconda guardo bene qual è il centro della testa prendendo come punto di riferimento le ali metto l'antenna e la vado a cucire tutta intorno fatto tutto il giro vado a fare un nodino finale e vado a nascondere il filo e il nodino all'interno del lavoro ecco qua che le antenne sono pronte per l'occhio vado a fare un anello magico quindi avvolgo il filo intorno al mio dito passo l'uncinetto sotto al primo aggancio il secondo ruoto prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola e vado a fare un solo giro composto da sei maglie basse quindi entro prendo il filo due asole sull'uncinetto chiudo tutte e due le asole insieme uno due tre quattro cinque sei stringo l'anello magico vado a fare nel primo punto una maglia bassissima quindi entro prendo il filo e lo passo all'interno di tutte le asole una catenella di sicurezza lascio il filo un po' più lungo perché dovrò andare a cucire tutto il contorno dell'occhio e taglio ho attaccato il primo occhio e mi ha avanzato un po' di filo perché l'ho lasciato bello lungo quindi ci andrò ad attaccare anche il secondo quindi vado a mettere a posizionare bene l'occhio e lo vado a cucire non sarebbe questa la tecnica più giusta per cucire l'occhio però è talmente piccolo che è difficile da cucire quindi è l'unico modo praticamente bisognerebbe fare entrare ed uscire ma praticamente se entro da una parte esco dalla parte opposta e non vado a cucire niente quindi andrò a fare questo lavoro entro da qua sotto cerco di entrare il più al centro possibile dell'occhio di modo da non far vedere la cucitura proviamo a fare come vi ho detto vedete è un po' più difficoltoso perché poi si va a staccare l'occhio praticamente devo fare così e poi andare a prendere l'occhio così si rimane un lavoro sicuramente più pulito e ci vuole un po' più di tempo per realizzarlo insomma io vi ho detto tutti e due i modi vedete voi quello che preferite vedete dovete entrare da una parte e uscire nella parte opposta praticamente e poi e poi rientrare di nuovo fatto fatto tutto il giro intorno dell'occhio vado a fare un nodino io solitamente ne faccio anche due di nodini per stare più sicura soprattutto per i giochini dei bambini ho sempre paura che li mettano in bocca e si possa staccare un pezzetto ed ecco che anche il secondo occhio ho fatto uscire il filo nella parte posteriore taglio la parte in eccesso e ecco che ho attaccato gli occhi ora vado a fare il riflesso della luce negli occhi quindi semplicemente vado a entrare lateralmente all'occhio e faccio passare il filo sto utilizzando un semplice filo da cucito proprio il più piccolino che c'è lo faccio passare nel punto successivo quindi vado a cucire due punti e poi li vado a cucire tutte e due insieme terminato il primo riflesso della luce sull'occhio entro e vado a uscire nel secondo occhio devo uscire nel punto corrispondente e vado a fare lo stesso identico procedimento terminato terminato faccio un nodino e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro taglio la parte in eccesso e gli occhi e gli occhi sono pronti per il naso vado semplicemente a prendere ago e filo il filo è quello che ho utilizzato per fare l'ape entro tra i due occhi in un punto qualsiasi esco due punti dopo uno due fatelo il più centrato possibile rispetto agli occhi lascio un pochino questo lungo perché poi lo andrò a nascondere all'interno del lavoro entrando ed uscendo faccio vari giri e alla fine si formerà il naso ok quando è venuto un nasetto un po' sporgente faccio un nodino e vado a nascondere i fili all'interno del lavoro entro esco dietro e taglio così ho fatto anche il naso ora vado a fare le zampette e inizio con un anello magico quindi avvolgo il filo intorno al mio dito passo con l'uncinetto sotto al primo aggancio il secondo ruoto prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola questo è il mio anello magico nel giro 1 vado a fare 6 maglie basse quindi entro all'interno dell'anello prendo il filo ho due asole sull'uncinetto chiudo tutte e due le asole insieme 1 2 3 4 5 6 stringo l'anello magico nel giro 2 vado a fare una maglia bassa e un aumento quindi entro nel primo punto faccio una maglia bassa nel secondo punto vado a fare un aumento quindi due maglie basse nello stesso punto 1 entro nello stesso punto 2 ripeto una maglia bassa e un aumento per tutto il giro ora dal giro 3 al giro 6 vado a fare 4 giri di maglie basse significa che entro in ogni punto precedentemente lavorato e faccio una maglia bassa entro nel punto e faccio una maglia bassa entro nel punto e faccio una maglia bassa ripeto questa sequenza per 4 giri fatti 4 giri di maglie basse faccio una maglia bassissima nel punto che segue una catenella di sicurezza lascio il filo un po' più lungo perché mi servirà per andare a cucire la zampetta al corpo e taglio di queste ne devo fare 4 perché l'ape ha 2 braccia e 2 gambe ok vado a fare il sorriso quindi parto da un punto qualunque vado prima verso il basso lo ripasso poi vado in orizzontale ed esco verso l'alto così avrò formato il sorriso terminato vado a fare un bel nodino e vado a nascondere la rimanenza di filo all'interno del lavoro taglio la parte in eccesso e il viso è terminato ora vado ad attaccare le braccia e le gambe quindi basterà andare a posizionare il braccio io li voglio fare verso l'alto così e le gambette così quindi metteteli in posizione e poi iniziate a cucire fatto tutto il giro vado a fare due nodini e vado a nascondere il filo restante all'interno del lavoro taglio l'alto taglio l'eccesso e ripeto questo procedimento per l'altro braccio e per le gambe vediamo come fare il cappellino inizio facendo un anello magico quindi avvolgo il filo intorno al mio dito passo con l'uncinetto sotto al primo aggancio il secondo ruoto prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola questo è il mio anello magico ora vado a fare sei maglie basse nel primo giro quindi entro prendo il filo ho due asole sull'uncinetto chiudo tutte e due le asole insieme uno due tre quattro cinque sei stringo l'anello magico nel giro due vado a fare sei aumenti quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa entro di nuovo nel primo punto e faccio un'altra maglia bassa questo è un aumento devo ripetere due maglie basse in ogni punto precedentemente lavorato per tutto il giro dovrò avere in totale 12 maglie basse lavorate nel giro tre vado a fare una maglia bassa e un aumento quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa nel secondo punto faccio un aumento uno entro nello stesso punto punto due proseguo con una maglia bassa e un aumento uno due per tutto il giro terminato il giro vado a fare una maglia bassissima nel punto che segue e ora vado a lavorare in costa quindi vado a prendere solo il filo questo esterno e nel giro 4 vado a fare un giro di maglie basse lavorate in costa quindi prendo il filo e faccio una maglia bassa entro in costa entro in costa entro in costa entro in costa e ripeto con la sequenza fino alla fine del giro ora nel giro 5 e nel giro 6 vado a fare due giri di maglie basse entrando nell'intero punto quindi entro nell'intero punto e faccio una maglia bassa questa volta prendo tutti e due i fili che stanno sul punto e ripeto la sequenza per due giri terminati i due giri vado a fare una maglia bassissima nel punto che segue ora nel giro 7 vado a lavorare in costa interna prima ho lavorato questa esterna ora vado a lavorare questa interna quindi prendo solo il filo verso di me e vado a fare due maglie basse e un aumento quindi 1 lavoro in costa 2 e sempre in costa vado a fare un aumento 1 entro nello stesso punto 2 ripeto due maglie basse e un aumento lavorate in costa per tutto il giro nel giro 8 vado a fare 3 maglie basse e un aumento ma questa volta lavorate nell'intero punto quindi entro nell'intero punto 1 segno all'inizio del giro entro nell'intero punto 2 2 3 e un aumento 1 entro nello stesso punto 2 ripeto questa sequenza per tutto il giro terminato anche questo giro il cappellino è pronto quindi faccio una maglia bassissima nel punto seguente una catenella di sicurezza lascio il filo un bel po' più lungo perché mi servirà per andare a cucire il cappellino alla testa e taglio ora faccio passare il filo qui su questo punto devo andare a fare il giro qui quindi entro esco da qui e poi rientro e lo vado a cucire sulla testa prendo l'ape lo metto in posizione e vado a cucire devo praticamente andare a seguire tutto questo bordino come sempre terminato il giro vado a fare un nodino e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro taglio la parte in eccesso il tutorial è finito se volete ci vediamo lunedì prossimo ciao